buon dizionario allora e come stati spero bene allora siamo di nuovo queste con un grande ospite una puntata meravigliosa diciamo e allora io ve lo vado subito presentare un attimo solo che arriva un attimo un attimo un attimo e qui sta arrivando il grande baffon sta tornando per voi il grande baffon diciamo che lui farà scomparire un cioccolatino non parla proprio di poche parole proprio non parla un baffon questi baffon che si va via i baffon non sta attaccare i baffon farò scomparire a me lo che parla e si chi parla eh ciò farò scomparire fa senza questi baffon ma farò scomparire un cioccolatino attenzione guarder ben oltre io farò scomparire il cioccolatino mannaggia questi baffi che non stanno baffon senza baffon messo a rotto i baffon senza baffon altra che scomparirà il cioccolatino è uno due tre andate via baffon ma avete visto incredibile mi avete scomparire un cioccolatino io vi saluto a video d'appuntamento al prossimo dizionario di lingue diciamo ciao e grazie